Ecco a voi Fortnite Pay2Win, ovvero più paghi, più vinci, tipo lui qui davanti ha il pompa del nono che magari non gli piace, picconata e si fa dare allo spazio leggendario, oppure qui c'è un fight, lui si trova in difficoltà, si trova dentro un fortino, posiziona T, si crea uno scudo davanti, l'altro lo spara, non gli fa niente, poi appena si avvicina un pochettino, nel momento giusto si toglie lo scudo e pompata in faccia. O anche in questo caso il nemico sta scappando e troppo lontano deve fare qualcosa, allora fa l'emoticon e guardate che cosa succede, con uno schiocco di dita il tizio vola verso di lui e lo uccide.